L'economia del mare si conferma una risorsa di straordinaria importanza per Salerno ed il porto costituisce la punta di diamante di questo schema. Lo scalo commerciale intanto è ripartito nel migliore dei modi dopo la pandemia, come spiega ad Otto Channel il presidente di Salerno Container Terminal e di Marina D'Arechi, Agostino Gallozzi. Abbiamo recuperato molto bene, peraltro all'inizio di quest'anno sono stati completati i lavori di riqualificazione dello scalo salernitano, è stato completato il dragaggio, è stato completato l'allargamento dell'imboccatura del porto. Oggi possiamo ricevere in porto navi di dimensioni molto più grandi, quindi le prospettive ci sono. Ovviamente viviamo una fase critica, questo è chiaro a tutti, però nonostante ciò siamo effettivamente a livelli pre-Covid e abbiamo prospettive decisamente incoraggianti per un ulteriore slancio e sviluppo futuro. Resta però da sciogliere il nodo delle incompiute, a cominciare da Porta Ovest, opera infrastrutturale fondamentale ancora non portata a termine dopo anni. Bisogna ragionare in maniera integrata, perché se c'è un anello debole ne soffre l'intera filiera. Effettivamente la riqualificazione infrastrutturale nella provincia di Salerno va troppo a rilento, troppo, troppo, troppo a rilento. Salerno Porta Ovest è un anello fondamentale per rendere competitivo, ancora più competitivo è lo scalo, nel senso che tutto il traffico pesante sparirà dalla circolazione, anche dalla vista, e quindi si renderà un servizio al Porto, ma ancora di più un servizio alla cittadinanza, perché l'obiettivo è sempre quello di rendere compatibile lo sviluppo economico con le aspettative assolutamente legittime di migliore qualità di vita da parte della cittadinanza.